E sveglio e cosciente, finalmente la notizia che tutti aspettavamo è arrivata. Raffaele Capolupo è stato estubbato dopo oltre una settimana e il 35enne è fuori pericolo di vita. Per giorni la città ha sperato che arrivasse questa bella notizia. Nei giorni scorsi ci sono stati anche due momenti di preghiera per il giovane rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Scandone. Ora finalmente tutti possiamo tirare un sospiro di sollievo. Anche gli uomini di Mr. Raffaele Biancolino hanno dedicato a lui la vittoria conquistata dall'Avellino a Crutone. Grande senso di sollievo è stato espresso anche dal sindaco di Avellino, Laura Nargi. Sono consapevole che il percorso verso la sua completa guarigione è ancora lungo, ma questa notizia riempie i nostri cuori di gioia. Forza Raffaele, la città è tutta con te. Dalla sera del 26 settembre, giorno dell'incidente, l'intera città ha dimostrato grande affetto verso Raffaele e la famiglia Capolupo. Migliaia i messaggi sui social, lo striscione della curva sud davanti all'ospedale e due momenti di preghiera. Così la città, ma non solo, è stata sempre vicina ai familiari del giovane, sperando e pregando per la bella notizia arrivata dopo dieci giorni.